salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sarà un nuovo video test in cui voglio provare l'app san zino nella modalità waypoint sì perché comunque è una funzionalità che ha a tanti interessa altri invece magari non la usano o non gli interessa usarla ma secondo me ha tanti appassionati di droni le funzioni waypoint piacciono e piacciono anche tanto quindi adesso facciamo una prova in questo campo tanto per avere un'idea sul come creare i waypoint e vedere come lui reagisce alla creazione del percorso che gli andiamo a fare quindi ragazzi adesso preparo tutto e proviamo l'app san zino che è la pronto in modalità waypoint ok il radiocomando è connesso andiamo a connettere anche lo smartphone quindi andiamo a aprire l'applicazione appsan ok l'applicazione è aperta adesso aspettiamo che di avere comunque i satelliti necessari per decollare adesso ne abbiamo 9 dobbiamo aspettare che ci dà l'ok ok ragazzi adesso ci autorizza a decollare quindi andiamo a cliccare sul simbolo che abbiamo qua in alto a sinistra clicchiamo su waypoint mode qua possiamo scegliere se creare una missione o caricarne una che abbiamo in memoria ne creiamo una nuova qua dobbiamo andare a cliccare quel pallino che c'è vicino al simbolo del mondo e selezionare il simbolo che ci porta alla posizione in cui siamo in questo momento ok vedete che ci ha rilevato e ci ha portato qui nel campo in cui sono io in questo momento a questo punto cliccando su drive possiamo selezionare o meglio possiamo scegliere se cliccando sulla prima matitina disegnare il percorso con il dito quindi vedete che io ho disegnato il percorso con il dito adesso lo vado a cancellare o selezionando la matitina con i puntini andare a selezionare vedete il percorso mettendo i puntini cliccando con il dito sopra allo schermo adesso vado a eliminare anche questo percorso che ho fatto ah una cosa ragazzi possiamo mettere anche un poi quindi un punto di interesse io posso cliccare su poi metterlo e poi disegnarci un percorso intorno a quello sarà il punto di interesse del nostro percorso quindi il drone in teoria dovrebbe tenere inquadrato quel punto di interesse che noi andiamo a mettere una cosa che volevo farvi vedere è che quando andiamo a mettere i punti di interesse che cliccando sul punto di interesse ci dà l'altezza del punto di interesse cioè i 30 metri sono l'altezza dei nostri punti di interesse che possiamo andare anche a modificare singolarmente diciamo di default impostato a 30 metri possiamo scegliere se alzare abbassare se fanno uno più alto uno più basso diciamo abbiamo anche questa possibilità quindi adesso vado a cancellare anche questa cosa che ho creato ovviamente e adesso andiamo a creare veramente una missione quindi andiamo a mettere un punto di interesse qua poi clicchiamo sulla matitina e vado vediamo se riesco a rimpicciolire la mappa anche se ho disegnato non volevo aspettate che cancello prima rimpicciolisco la mappa se no non riesco a disegnarla ok allora vado a mettere un punto di interesse poi vado a selezionare la matita e disegno un percorso vedete intorno al punto di interesse adesso è pronto quindi in teoria adesso possiamo decollare mi allontano dal nostro ab san zino vado a cliccare su il simbolo con la freccia verso l'altro su sun limit ok questo è sempre la solita opzione che esce dobbiamo avere il radiocomando vicino al drone così lui fa il test del gps l'accurato test del gps ok fatto ecco vedete che adesso il drone parte sta salendo all'altezza di 30 metri abbiamo 12 satelliti quindi va benissimo ecco vedete che adesso il drone anche nel display vedete che inizia a muoversi e dovrebbe portarsi al punto 1 dato al punto 1 giusto adesso dovrebbe iniziare a percorrere la missione infatti vedete che adesso si sta spostando verso il punto 2 ok ok c'è anche un po' di neve oggi non so se l'avete notato penso di sì è tutto bianco anche se ce n'è poca poca però un po' ha nevicato quindi vedete che lui adesso sta percorrendo la missione vedete che adesso sta andando verso il punto 4 lo vedete la adesso questo lui è impostato alla velocità minima però si poteva scegliere dove si regola l'altezza si può scegliere anche la velocità con cui lui percorre la missione ovviamente questa è la velocità minima giusto per vedere come si comportava va bene lo stesso mi raccomando ragazzi quando fate questa quando usati we point ma non solo con con questo drone ovviamente ma con tutti i droni in generale mi raccomando state attenti a dove lo fate perché comunque calcolate sempre le altezze quindi state sempre su altezze abbastanza di sicurezza tipo vedete qua impostato a 30 metri e comunque si sta in un'altezza di sicurezza perché comunque gli alberi si sorpassano tranquillamente e poi comunque i pali della luce vedete voi ma 30 metri passate anche quelli a meno che ci siano proprio dei pali altissimi ma quello poi lo vedete nel posto dove siete l'importante che valutate bene dove lui andrà a percorrere perché poi non avendo sensori non avendo niente è un attimo che il drone va a finire contro a qualcosa che non dovrebbe ovviamente adesso vedete che è nato al punto 8 adesso sta tornando cambiamo l'inquadratura anche qua del dello smartphone giusto per vedere ok ragazzi vedete il suo comportamento ormai ci siamo andiamo a vedere all'interno della mappa ormai è arrivato al punto 10 che dovrebbe essere l'ultimo infatti è uscita anche la scritta we point mission complete a questo punto lui si è fermato alle we point numero 10 cioè all'ultimo we point non ho trovato per adesso magari sono siccome che la sto scoprendo anch'io con voi non ho trovato altre opzioni nel senso che lui si ferma all'ultimo punto in cui è stato dato come missione quindi adesso lui questa missione l'ha finita possiamo tornare adesso in quadra cambio l'inquadratura così magari mi vedete lì nel campo bianco e una cosa che volevo provare siccome che l'avevo provata la prima volta proprio quando l'avevo tolto dalla dalla scatola e provato ma poi c'è stato l'aggiornamento firmware molto importante anche l'aggiornamento dell'applicazione volevo provare a mettere ancora il follow me per vedere perché comunque tendeva un po a perdere il soggetto però è anche vero che adesso con l'aggiornamento firmware è tutto sono curioso di provarlo allora following mode vado a selezionarmi ecco qua non mi sono selezionato malissimo ok quindi vediamo come il drone mi segue vedete che mi sta seguendo se io mi fermo si ferma ok vediamo andagli incontro va anche indietro mentre l'altra volta indietro non andava si fermava mentre adesso va anche indietro adesso ritorno qua provo a correre vedete come si ferma quando mi fermo adesso vai indietro si direi che il follow me è migliorato veramente tanto con l'aggiornamento firmware adesso si comporta bene devo dire che si comporta davvero bene niente niente da dire visto che ho ancora circa il 50% di batterie volevo adesso provare qualche altra funzione volevo provare queste creative video allora le prime due non sono abilitate ancora quindi probabilmente verranno abilitate prossimamente questo vizio comunque di mettere le cose non abilitare non metterle neanche cosa serve mettere delle cose che poi non vengono abilitate l'unica funzione che adesso è abilitata e panorama shot quindi proviamo questa e vediamo cosa succede ok quindi proviamo a salire d'altezza finché ci andiamo a incappare in qualcosa di brutto adesso aumentiamo un po la velocità aumentiamo anche l'angolo e go si vabbè alla fine non è niente di che gira su se stesso si diciamo il panorama shot è già finito aspettate che lo rifacciamo lasciandolo andare più piano perché così veramente è stato troppo veloce quindi li mettiamo così la velocità l'abbassiamo e go ok adesso gira un po più lentamente si diciamo che gli avvisi di batteria veramente iniziano prestissimo ecco vedete il panorama mod è questo ragazzi gira a 360 gradi su se stesso ok il panorama mod è finito così adesso torniamo nel menu un attimo proviamo a guardare questo che non so cos'è line fly mode ah ok gli si dà un punto dove andare in teoria quindi possiamo dirgli adesso lo spostiamo lo facciamo scendere un pelo distanza 10 metri velocità ok è partito avanti a una determinata velocità in teoria per 10 metri adesso ve lo faccio vedere da qui praticamente sì vabbè che cacchio di funzione è è andato avanti di un po di metri aspettate che la rifaccio che non l'ho proprio capita allora clicco qua allora praticamente bisognerebbe dargli allora la velocità si può regolare l'angolo ok proviamo aumentare l'angolo a vedere cosa succede la distanza gli diamo magari qualche metro in più 30 metri e la velocità un pochino di più quindi ok e gli diamo il via ah ok va lì indietro deve sapere prima perché è andato avanti sto coso ok si è per fare l'inquadratura quella diciamo che quando si viene da si parte da un soggetto o meglio da un punto di interesse e poi si va indietro proviamo mettendomelo davanti a me ok ok quindi andiamo a cliccarci vediamo cosa fa adesso mantengo tutto come prima a livello di opzioni e vai a bisogna avere un'altitudine di 8 metri abbiamo il 30 per cento di batterie eh ok si vabbè niente di che ragazzi a livello di voli preimpostati direi che c'è un po' da lavorare perché due non sono ancora abilitati e questo si niente di che uno lo fa in manuale cosa cambia vabbè quindi facciamo un voletto una cosa ancora che non capisco è tramettere tra modalità sport e modalità normal il drone si comporta esattamente nello stesso modo adesso ve lo faccio vedere ragazzi così sono in modalità normal ok questo è il drone in modalità normal lo sto usando a tuono questo è sto dando gas a manetta e questo è il drone in modalità normal adesso lo vado a mettere in modalità sport è praticamente la stessa cosa e questa è un'altra cosa che in cui deve ab san deve risolvere perché in modalità cioè ok che in modalità normal va come modalità sport ma a livello cinematografico e rimane poi un drone un po' troppo difficile da gestire nel senso che è un po' troppo sensibile un po' troppo performante per usarlo per riprese video io di differenze non ne vedo cioè se io prendo il Mavic Air lo metto in modalità sport un missile lo metto in modalità normal il drone è gestibilissimo e mi permette di fare dei pregi cinematografiche strafighe questo invece se lo metto in modalità sport va a tuono se lo metto in modalità normal va a tuono e viceversa quindi già c'è questi stick ipermorbidi poi con questa cosa che anche in modalità normal è praticamente uguale a modalità sport secondo me c'è un qualcosa da risolvere perché guardate adesso normal parto così adesso mi fermo metto modalità sport così è uguale cioè se c'è una differenza è veramente veramente minima che a usare il drone non si capisce praticamente neanche quindi io credo che a san in questo devo mettere mano perché non tanto perché switchando non cambia niente ma perché si andrebbe a migliorare sicuramente addolcendo una modalità normal si andrebbe sicuramente a migliorare l'uso di questo drone per uso cinematografico che poi è lo scopo di chi compra questo drone perché è inutile che mi fai un drone in 4k con una telecamera che comunque è buona e stabilizzata bene ma il drone è un po troppo sensibile da gestire per le riprese video che non che non si riesca ad usarlo però è un pochino troppo sensibile quindi adesso riatteriamo prima che mi fa il return to home e mi atterra nella neve quindi adesso lo vado a riportare che vedete come sensibile cioè è veramente veramente sensibile adesso sono in modalità normal quindi adesso lo portiamo al landing si anche riportarlo al landing manualmente non è semplicissimo perché con questa cosa che lui scende sale quando si lascia lo stick quindi da questo senso di un po' di instabilità nel senso nella direzione anche da farlo portare al landing non è semplicissimo come invece lo è il Mavic Air o lo è l'autelivo o anche il Paro Tanafi che sono molto semplici da portare al landing questo tra gli stick molto sensibili e il discorso che sale e scende un po' di stick diventa un pochino più impegnativo riportarlo al landing quindi ragazzi adesso metto via un po' le cose e poi tiriamo le conclusioni su quello che abbiamo provato oggi di questo Apsan Zino ok ragazzi anche il sole sta tramontando ve lo faccio vedere quindi è proprio giunta l'ora di mettere via questo Apsan Zino e tirare le conclusioni di questo test di oggi quindi le conclusioni o meglio le mie conclusioni e le mie sensazioni sono che allora i WePoint funzionano bene avete visto si è comportato benissimo l'ha rispettato benissimo il percorso che gli ho dato ha rispettato l'inquadratura verso il punto di interesse che gli avevo messo quindi ragazzi diciamo che questa opzione di WePoint funziona già veramente veramente bene non ha tanti sfronzoli nel senso che non gli si può impostare chissà quante cose però possiamo dargli la velocità di spostamento da un WePoint all'altro e possiamo mettere l'altezza di un WePoint all'altro però si può regolare chissà quante cose ma quello che si fa funziona bene quindi quello è l'importante poi magari lo modificheranno quindi magari gli daranno delle funzioni in più non lo so vedremo visto che è tutto ancora veramente in continuo aggiornamento perché comunque hanno tanto da diciamo sviluppare su questo absanzino poi cosa abbiamo provato il follow me che adesso funziona veramente bene avete visto come mi seguiva anche andandogli incontro mentre l'altra volta con il primo firmware andandogli incontro lui si fermava mentre andrei... come sto parlando? eh c'ho anche un po' di raffreddore ragazzi forse anche quello mi si impasta sulla bocca quindi ragazzi allora adesso si può andare incontro e lui va indietro mi seguiva anche mentre correvo no si è comportato bene anche nel follow me e secondo me è migliorato con l'aggiornamento firmware poi invece l'altra cosa che abbiamo provato erano i voli predefiniti allora due ci sono ma non sono ancora funzionanti nel senso che se ci clicchiamo sopra ci dice che non sono ancora attivi quindi probabilmente lo diventeranno con i prossimi aggiornamenti e l'unico funzionante è il drone che gira a 360 gradi su se stesso cioè questa cosa per intenderci in cui si può regolare la velocità, l'angolo però niente di che ragazzi cioè sì una funzione utile perché comunque quando si va in posti soprattutto panoramici eh è utile però sì è una cosa che serve però è l'unico volo predefinito che ha quindi vabbè gli altri due non sono ancora abilitati eh quindi vedremo quando li abiliteranno come saranno e l'altra cosa che abbiamo provato oggi è la modalità sport, la modalità normal praticamente uguale ed è questa una cosa a cui Absan deve risolvere velocemente ma non tanto perché non c'è differenza tra sport e normal quanto perché in modalità normal eh si dovrebbe avere un drone più dolce eh più gestibile per un uso cinematografico quindi per sfruttare al meglio la sua fotocamera eh mentre eh praticamente è sempre in modalità sport perché credo che eh se c'è una differenza sia veramente minima cioè a sensazione non c'è differenza di prestazioni e eh di reazione del drone sugli stick che è veramente sempre molto molto sensibile e eh abbastanza brusco nei movimenti quindi dal punto di vista cinematografico eh la modalità normal dovrebbe essere veramente mh un'altra cosa quindi secondo me Absan a questo dovrà mettere mano eh però per il resto ragazzi il drone eh si sta comportando bene nel suo prezzo che adesso dovrebbe trovarsi intorno a circa i 300 euro se non sbaglio eh si sta comportando veramente bene per chi vuole iniziare ad usare un drone di un certo livello nel senso con una fotocamera eh buona e eh un drone che comunque ha un'autonomia di batterie abbastanza alta ma qua apro una parentesi le test batterie non lo sto a fare adesso perché fa troppo freddo quindi non sarebbe un test batterie reale perché con il freddo le batterie ovviamente durano eh molto meno eh quindi perché comunque anche adesso c'è una temperatura circa di un grado o due gradi e quindi mh non sarebbe un test reale quindi magari lo faremo più avanti e quindi ragazzi sto dicendo per chi veramente vuole comunque iniziare con un drone senza spendere grosse cifre ma vuole avere un drone per comunque fare riprese video interessanti quando va a farsi una scampagnata in montagna, al lago o al mare eh questo drone con i suoi aggiornamenti inizia a essere interessante eh ovviamente adesso aspetteremo gli altri aggiornamenti quindi per questo video eh questo test è tutto come al solito ragazzi se questo mio test vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su aspetta che non riesco a alzare il pollice pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video ciao